I provvedimenti per sostenere le famiglie numerose, la riscossa del sud, le difficoltà dell'agricoltura e la recessione economica, ma anche i commenti all'aggressione a Silvio Berlusconi. Numerosi temi di dibattito dal terzo congresso regionale dell'UGL in Puglia che rieleggerà la sua guida, Giuseppe Carenza. La segretaria generale del sindacato, Renata Polverini, ripropone la ricetta del quoziente familiare che sostenga le famiglie numerose. Occorre una riforma strutturale del sistema fiscale, dice. Secondo l'UGL un nucleo monoreddito con due figli e un reddito lordo anno di 31.500 euro avrebbe un vantaggio di circa 2.000 euro. Renata Polverini invoca aiuti immediati all'agricoltura e spiega che il momento peggiore della crisi è passato. Al congresso UGL è anche il confronto tra il presidente degli industriali pugliesi Nicola De Bartolomeo e l'assessore al lavoro Michele Losappio che ha invitato Confindustria ad espellere gli imprenditori che approfittano della crisi in corso per ricevere aiuti mettendo in mobilità i lavoratori.